Soprattutto negli enti pubblici, negli enti locali, i dirigenti si danno gli obiettivi e si valutano se hanno raggiunto o meno l'obiettivo. E succede troppo spesso, perché sento colleghi, ho fatto l'assessore nel mio comune per un po' di anni, e sento colleghi che lo stanno facendo attualmente, ma la situazione è ancora così, è normale che i dirigenti si danno obiettivi semplici, raggiungibili, in modo da poi portare a casa il premio. E allora ci deve essere qualcuno, o qualcuno di esterno, o una terza persona, e sicuramente non deve essere il politico, ma sicuramente deve essere una terza persona che valuta se il dirigente ha degli obiettivi sicuramente raggiungibili, ma comunque obiettivi che interessano la collettività, e soprattutto se quell'obiettivo l'ha raggiunto. In caso contrario, se io devo valutare me stesso, è logico che mi darò come obiettivo se riesco a temperare questa matita.